Pena ridotta nel processo di secondo grado per il San Cataldese Raimondo Scalzo, di 64 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta lo ha condannato a 24 anni, cancellando l'ergastolo che gli era stato inflitto in primo grado. Scalzo, anche in appello, è stato dunque ritenuto responsabile dell'omicidio di Luca Salerno, ucciso a colpi di fucile il 3 gennaio del 1993 nelle campagne di San Cataldo. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo, mentre l'avvocato difensore Calogero Vinci aveva sollecitato l'assoluzione, evidenziando la mancanza di riscontri dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'insufficienza degli elementi su cui si fondava l'accusa. L'omicidio di Luca Salvatore Salerno, secondo la ricostruzione emersa finora, era maturato nell'ambiente della criminalità organizzata sancataldese, in particolare nei giri che riguardavano la spartizione e le lotte per gli affari di droga, estorsione e danneggiamenti. Al centro di tutto la rivalità tra due fazioni, ma nessuna accusa di mafia. Il caso era rimasto avvolto nel mistero per quasi un quarto di secolo. Solo nel 2018 era arrivata la svolta nell'inchiesta dei carabinieri, grazie al contenuto di un'intercettazione che faceva parte dell'indagine Pandora sulle irregolarità nella gestione degli apparti a San Cataldo. In quella conversazione, secondo gli investigatori, Scalzo aveva praticamente confessato la sua partecipazione all'omicidio Salerno. Se ne riparlerà in Cassazione. Grazie. Grazie.